benvenuti a questo nuovissimo episodio della nostra carriera allenatore con il copenhagen su fifa 21 quest'oggi iniziano i playoff ci giocheremo la prima parte dei playoff voi in questo momento starete dicendo ma scusa ma non mancavano due partite da quattro season ci arriviamo dopo a quello oggi è un episodio importantissimo perché potrebbe essere potenzialmente anche l'ultimo se dovessi vedere queste prime di 5 ci garantiscono di avere un gap elevatissimo rispetto al mid-inland potremmo simularci tante tante partite in queste playoff e chiudere proprio in questo episodio la seconda stagione al copenhagen per poi andare magari in altre squadre in altre nazioni detto ciò vi ricordo che domani vi avviso che domani sarò in live alle 17.30 sulla piattaforma viola per eventualmente a questo punto scegliere la nuova squadra oppure per chiudere per l'appunto i playoff inoltre instagram importantissimo perché al raggiungimento dei 3.5k ci troverà l'episodio speciale inoltre instagram importantissimo anche per rimanere sempre aggiornati e conoscermi meglio adesso c'erano quelle due partite contro Mittilan e Brundby come finale di regular season che mi sono giocato a telecamera spente ho preparato un video di un minuto dove vi faccio vedere la situazione in classifica dove sentite la mia voce attaccata al microfono mentre parlo molto calda e vi faccio vedere tutti i gol quindi adesso switchiamo alla scena ecco qua un breve recap di quello che è successo nelle ultime due partite regular season contro Mittilan e Brundby partiamo subito dal primo match contro Mittilan vediamo le formazioni abbiamo visto prima la classifica giochiamo in casa al Parken ed una partita che viene decisa dal gol da parte di Kirill Despotov che arriva al 26esimo della prima frazione di gioco il numero 11 del Copenhagen si inserisce nella regola avversaria ad incrociare la piazza perfettamente con il destro e realizza l'1-0 che ci porta a casa i tre punti per l'appunto e ci fa ancora di più di staccare al Mittilan attualmente siamo a più 10 dal Mittilan come vediamo in questo momento alla classifica provvisoria alla 21esima giornata la giornata alla fine della regular season ecco la seconda partita contro il Brundby ecco le due formazioni ecco i due 11 titolari vediamo un po' come è andato questo match al 37esimo partiamo malissimo gol da parte di Matej Vidra questo tiro con il mancino di controbalzo sotto l'incrocio dei pali imparabili per il nostro capitano Jonsson loro riescono addirittura a raddoppiare al 52esimo troppa libertà per Blast Riveros che passa su Rasmussen senza fatica dentro per Frendrup che la piazza perfettamente sul secondo palo con il destro al 53esimo 2-0 Brunby che sembra essere quasi un colpo del KO per noi ma sappiamo reagire prima con Gerson Rodriguez che entra in area di rigore avversaria rientra poi sul destro e ad incrociare la butta sul secondo palo per realizzare il 2-1 momentaneo al 72esimo minuto c'è ancora tempo per pareggiarla e per pareggiarla adesso vedremo un po' che azione strana che ne esce fuori è stato un nuovo acquisto a gennaio uno dei due acquisti che abbiamo fatto in campo ci sono sia Sekhitika che Basiliadis in questo momento Musgord trova proprio il greco che con il destro sul primo palo sotto l'incrocio all'89esimo realizza il 2-2 che vale un punto importantissimo esultanza di gruppo in questo finale di partita e adesso vi lascio al video allora come avete visto dal video ci sono state un paio di sorprese in queste ultime due partite di regolarsi insomma rimaniamo comunque a più 8 sul Nittilland assegnano anche Basiliadis Telemaco come avete detto di sovrannominarlo nello scorso episodio adesso abbiamo la partita contro Lodensi vediamoci un po' il calendario abbiamo Lodensi poi il Vaile che credo ce la simuleremo poi abbiamo il Norgelland l'Horus il Nittilland ancora Lodensi e poi si ripete ovviamente il calendario perché andate in ritorno in questi playoff sono 10 le partite di questi playoff potrebbero essere potenzialmente molte ma molte meno in questo episodio perché potremmo simularcene molte e adesso andiamo contro Lodensi e ci facciamo subito la formazione partita contro Lodensi ce la giochiamo con Jonsson in porta Musgord Valiant Rasmussen con Dragovic che è sceso a 76 di overall il peccato Pereira Vasiliadis che forma Ndong Sekiseki Fischer Mariano Olm si va al Parken la formazione Lodensi il gioco ha deciso di non farcela vedere si parte al Parken per Copenaghen Lodensi prima giornata di questi playoff Olm buona per Ndong si deve far vedere qui Mariano Dong continua la sua corsa dentro adesso per Mariano vai Mariano vai Mariano posizione regolare Mariano Mariano fino in fondo Mariano con il destro Mariano al trentatresimo 1-0 Copenaghen alla prima occasione della nostra partita 1-0 con Mariano sono sette in campionato per lui questa stagione è poco prolifico Mariano ma si sta comportando bene dal punto di vista di far alzare la squadra alzare il baricentro e tutto da quel punto di vista Mariano impeccabile questa stagione dal punto di vista prolifico come dicevo abbastanza male però per il resto perfetto 1-0 per noi Sabe Opondo Posso non vediamo se viene chiuso Tomasen si gira dentro per Fraker Jensen spazi enormi per lui Jonsson calcio d'angolo per loro al trentanovesimo bravissimo Capitan Jonsson a metterla in corner Fraker Jensen il numero 29 cross in mezzo da parte sua Ocosun solissimo Valiant con la testa Capoccia contro Capoccia Toverskob Sabi lo prova al giro con il destro respitto il tentativo da parte di Valiant Fraker Jensen contro Sekiseki vediamo se lo chiude Sekidiga Sekidiga anche in fase difensiva palla che poi rimane in campo ed è pure nostra cambio per noi dentro Zori al posto di Olman e loro cambiano invece ho visto uscire Fenger non so per chi Sabi pronta la battuta questo calcio munizione mi sembra che la giocano vicino vediamo se va alla conclusione Sabi infatti fa la finta e Sabri la gioca vicino noi usciamo con una scivolata qui con Canizop appena entrato possiamo andare in contropiede adesso con Mariano si fa vedere qui per area palla proprio per Adrian vai Adrian va in velocità attenzione al pescatore che si va a vedere palla per Fischer contropiede perfetto da parte nostra Fischer 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 dobbiamo andare solamente alla conclusione Fischer rientra sul destro lo prova Fischer a giro bruttissimo questo riga al 74esimo che contropiede però che contropiede e Sabri prova a passare qua su un Dong un Dong lo chiude ma palla che arriva all'Und che ha un po' di spazio numero 2 qua palla in mezzo l'ho vista bruttissimo Johnson la mette in calcio d'angolo al 78esimo ho visto il pallone letteralmente dentro Sabri contro Sekidica qua che prova a chiudere sul primo palo Nissen può andare contro Musgore palla dietro per Ribera usciamo usciamo Didier vediamo cosa si inventa Didier da fuori con il destro Mariano la controlla Mariano Mariano e qui Cristanzano in calcio d'angolo facciamo battere il corner a Sekiseki facciamo battere il corner a Sekiseki ma si ma si vediamo se riusciamo a fare l'assist adesso Sekidica al 94esimo grossi mezzo la parte sua Mariano con la testa palla altissima e finisce il match 1-0 tra Comenaghen Odensi vinciamo la prima partita di questi playoff contro Odensi 3 punti importantissimi tocca vedere quanto ha fatto il Mid-Inland potremmo stare potenzialmente a più 11 in questo momento ottimo così partita contro il Vaile siamo ancora più 8 rispetto al Mid-Inland questa ce la simuliamo perché il Vaile è ultimo in questa classifica di questi playoff quindi adesso ci facciamo la formazione al volo ci simuliamo questo match contro il Vaile con un 11 cellulare abbastanza normale in fin dei conti gioca solamente Gregos un po' al di fuori della titolarità ecco simulazione veloce vediamo un po' come va incrociamola 3 a 1 Rodriguez doppietta di Mariano per loro Alan Sousa altri tre punti fondamentali comunque abbiamo il North Island adesso guardate un po' la classifica siamo a più 7 dal Mid-Inland perché? perché il Mid-Inland ha giocato una partita in più quindi potremmo essere potenzialmente a più 10 dopo il North Island abbiamo l'Horus ci simuleremo anche quella ci simuliamo principalmente le partite contro Horus e Vaile in questi playoff da quello che avete capito e adesso concentriamoci un po' sul North Island ci facciamo la formazione partiamo contro il North Island ce l'agiamo con 11 dollari esclusivo solamente per un giocatore Jonson Musgord Valiant Dragovic Pereira Vasilis Zeca Telemaco e Ulisse a centrocampo Desbolo Fischer Mariano Olm si va ancora al Parken Jensen in porta Gannon Mesick Hansen Mensah Frese Francis Chukwani Atanga Sangare e Sulemana 5-3 ovviamente classica diventa 5 il North Island che non fa mai passare nulla all'addietro si parte al Parken per Copenhagen North Island noi giociamo nel centrocampo totalmente greco Ulisse Telemaco e ci si diverte Atanga adesso Sangare ancora Tanga a largo da Gannon che la mette giù il numero 5 Pereira ancora ha fatto due chiusure provvidenziali in questo primo tempo Pereira poi si fa scartare la parte di Gannon palla e mezzo per Sangare e qui se non mangia il numero 9 avversario che era totalmente solo ha colpito di testa al lato di pochissimo della porta difesa da parte di Johnson Basiliadis Mariano palla per lui Ulm controlla si fa vedere Despotov Despotov si inserisce Despotov può andare Despotov passa Despotov di fisico Despotov fino in fondo non c'è lo spazio per andare in conclusione di tacco Despotov Ulm 1-0 al 45esimo qui mi sembrava Guti di tacco per Benzema ai tempi del Real Madrid 1-0 per noi che tacco la parte di Despotov che guarda con gli occhi dietro la testa ad Ulm che lì la deve solamente appoggiare ma questo è un assist magnifico da parte di Despotov uno dei migliori momenti di questa carriera di Giro a mondo fino ad adesso 1-0 però sono pochi quelli che sono andati in doppia cifra per il momento e Ulm lo scorso anno fece una cosa come 9 gol e qua intanto Francis passa perfettamente al 53esimo e nulla da fare 1-1 torniamo con i piedi per terra stiamo qui parlando di gol di là e di qua e alla fine il gol ce lo fanno loro 1-1 buona per Mariano Ulm servito Zeca Zeca si inserisce Zeca 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 si è qui miracoloso il portiere avversario Ulisse gli inserimenti ci sono sempre ancora per il pescatore nessuno che è libero però allora Fischer si inserisce buona per Zeca controlla pallone non lo perde mai Mariano dentro per Fischer grande palla Fischer Fischer dentro c'è Ulm a porta vuota Ulm doppietta al 71esimo di nuovo Ulm due gol facilissimi per lui ma che sono importantissimi sia per il suo morale sia per il risultato in questo match 2-1 assiste da parte del pescatore ma Zeca non perde un pallone non ha perso un pallone Zeca 2-1 fuori Fischer dentro Norberta Damian l'armeno che va come un tren al 72esimo per farci sognare attualmente siamo in vantaggio da noi per 2-1 al 71esimo va per via centrali verso Sangare il centrocampo inesistente palla dentro per Francis ancora sponda verso Sangare Gannon giocano tutti di prima adesso bravissimo per era a chiudere a Tanga controlla prova a passare adesso su Valient lo chiude perfettamente poi Valient è stato bloccato da Tanga con l'animazione Gannon buona per Francis ancora Gannon bravissimo qui Dragovic a chiudere però ancora loro Hansen Christensen soffriamo tanto Christensen può andare buona per Sulemana che potrebbe allargare verso Frese così fa Musgord deve uscire in marcatura Frese contro Musgord Musgord vediamo se lo chiude forse con un fallo là Sangare Sangare contro Valient ancora Sangare ti prego ti prego Valient Sangare passa dietro per Frese Frese dentro ancora Sangare 2 a 2 dovevano al 93 dovevano dovevano assolutamente 2 a 2 nulla da fare nulla da fare una partita si è equilibrata però quest'ultimo gol abbastanza forzato dal gioco ma giusto un tantino 2 a 2 partiamo contro l'Horus che adesso ce la simuliamo Horus che è quinto la classifica di questi playoff a meno 22 da noi ci facciamo subito la formazione ce la simuliamo dunque contro l'Horus che ha un amminito che è capocannoniere di questa Superliga En e noi mettiamo dentro Rasmussen al posto di Dragovic simulazione veloce incrociamo le dita vediamo un po' come va perdiamo 2 a 0 perdiamo 2 a 0 Thor Stenson per loro doppietta e adesso si rimette tutto in discussione in questi playoff non ci voleva questa sconfitta non stiamo entrando in campo praticamente partita contro il Mid-Hilland adesso è tutto nuovamente in gioco perché loro sono a meno 5 noi abbiamo preso un po' sottocamba questi playoff e ce la stiamo prendendo in quel posto attualmente siamo a più 5 dal Mid-Hilland ci andiamo a fare la formazione tocca vincere senza se senza ma giochiamo con Jonsson Musgord Valiant Rasmussen Pereira Vasilia Sendong Despoto Fischer Mariano Olm loro sono un po' stanchi dietro dobbiamo approfittarne anche Cialobà a centrocampo hanno cambiato un po' di giocatori come vedo e si va al Parken Mid-Hilland gioca con Belman Kultz non fanno giocare Rolivieri Kultz Nikolaisen Scholz Uronen Cialobà come vedevamo dall'11 probabile Evander Krayev Akintola Feiffer e Isaksen formazione strana 4 e 3 non fanno giocare un bel po' di gente si parte al Parken per Copenhagen Mid-Hilland partita importantissima più importante di questa stagione fino a questo momento vincere vorrebbe dire andare a più 8 perdere vorrebbe andare a più 2 quindi ridurre il gap pareggiare vorrebbe dire rimanere a più 5 ma noi vogliamo assolutamente vincere si è partiti Pereira palla al piede dentro per Fischer ottima palla per Fischer 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 da là lo prova con il destro Fischer subito Victor al quinto minuto kickofflic per noi ma il pescatore è sempre presente la pesca così Fischer prende poi la preda diciamo ed è 1-0 per noi 1-0 per noi Victor Fischer ad incrociare con il terzo sotto l'incrocio kickofflic palese qua perché questi spazi non li abbiamo mai avuti 1-0 di testa home perfetto Mariano combatte non riesce a difendere il pallone contro Kuls vecchia conoscenza del canale Evander Evander sul destro Evander lo prova rimpallamento la parte di Evander dietro per Chalobah dentro per Feiffer e per fortuna palla al lato di pochissimo ce la siamo vista bruttissima qua Feiffer ci grazia Holm dentro per Mariano mazza che pallaccia la parte di Holm la controlla comunque Mariano che rientra sul destro Mariano 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 lo prova giro con il destro Mariano Belman la tocca ma non basta 2-0 Mariano di Asmichia al 29esimo 10 in campionato per lui avevo sbagliato prima avevo detto 6 in realtà erano 9 ho praticamente cambiato il numero l'ho stravolto l'ho capovolto 2-0 per noi Mariano di Asmichia l'occasione di due gol per il momento bene così bene così la tocca appena a Belman se non erro si è appena toccata a Belman ma non basta 2-0 Krayev di tacco buona per Evander largo per Isaksen di testa Musgord può andare qua Despodov che controlla abbastanza male allora Evander 54esimo Cialoba Feiffer contro Krayev qua Valiant ottima chiusura la parte di Valiant Ndong sbaglia ancora un passaggio Akintola lo prova calcio di rigore per il Mittilan al 56esimo giallo per Valiant a me sembra aver preso il pallone qua Valiant vediamo un po' il replay vediamo il replay prende il pallone Valiant entra risa per Nikolaisen intanto per loro calcio di rigore per il Mittilan vai Evander alla conclusione spiazza Jonsson 2-1 2-1 al 56esimo rimbocchiamoci le maniche perché nulla è scritto come avevo detto nella prima frazione Ziliadis Musgord è largo solissimo valla per lui attenzione a Despotov ottima valla per Despotov in mezzo c'è Olm lo cerca Olm 3-1 per il Copenhagen no Olm con la testa con la testa 3-1 per noi 3 gol in 2 partite per Olm ghiaccio per partita ghiaccio per partita adesso tranquillità perché non si sa mai non si sa mai questo Mittilan è pericolosissimo lo sappiamo a Despotov fa un assist perfetto per la capoccia di Olm che da lì non può sbagliare 3-1 per noi Agintola tir finisce così al Parken 3-1 contro il Mittilan più 8 in questi playoff rispetto al Mittilan recuperiamo tutti i punti che avevamo perso ottimo così in una partita dove abbiamo giocato benissimo abbiamo sofferto sì ma l'abbiamo preparata molto ma molto bene giocata principalmente di contropiede 3-1 direi che per questo episodio è tutto pensavo di chiudere tutto in questo in questo episodio ma in realtà siamo ancora più 8 quindi non si chiude un bel niente chiuderemo nel prossimo di episodio i playoff e vediamo un po' come andrà incrociando le dita di vincere questo campionato vi ricordo che domenica alle 17.30 chiuderemo la stagione con le ultime 5 dei playoff ma soprattutto Instagram lo dico anche in quel live 3.5k I'm not the king importantissimi per l'episodio speciale ma soprattutto per conoscermi meglio e per far parte al 100% di questo progetto ciò alla prossima ciao a tutti ciao a tutti